Stagione teatrale 2021-2022 Ce l'abbiamo fatta, siamo stati capaci di fermarci per ultimi l'anno scorso e tra i pochi teatri a riaprire fiduciosi di un'apertura continua da maggio fino ad ora siamo rimasti aperti e abbiamo voluto cominciare speranzosi delle belle notizie di riapertura che finalmente stanno arrivando per me è un onore, una soddisfazione parlare della nuova stagione teatrale e ringraziare chi ha voluto credere nel teatro Bressio Flacco con il sostegno che non è mai venuto a mancare e soprattutto per i soci accademici che sono riusciti con il loro volontariato a permettere che il teatro potesse rimanere aperto aperto per tutti e quindi il primo ringraziamento va a loro, ai volontari poi la fondazione Cassa di Risparmio di Volterra con la sua banca la Cassa di Risparmio che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno naturalmente il comune di Volterra al quale è dedicato il lavoro dell'Accademia dei Riuniti e le associazioni, questo lavoro che stiamo facendo da anni con le associazioni cittadine e quindi dedicando alla città questo spazio culturale che riesce ad essere vivo e che è presente a Volterra dal 1820. Sandro Querci che è qua vicino a me saprà illustrare cosa ha preparato per questa nuova stagione con una ripartenza che abbiamo programmato perché il lavoro è andato avanti anche quando c'erano le difficoltà perché la programmazione dei teatri guarda avanti da un anno a un altro e con l'assemble Bacchelli di Livorno e Sandro e Silvia Querci un tributo a Rizzo Ortolani per cui io passo la parola a Sandro Querci e invito tutti a venire a questo primo appuntamento che è di grande fiducia e di grande spensieratezza. Grazie Davide, io infatti ringrazio personalmente il presidente Davide Arceri e l'Accademia dei Riuniti, siamo qua per il terzo anno, insomma nonostante un anno e mezzo siamo stati penalizzati dalle vicende che sappiamo ma insomma ora ripartiamo in realtà non ci siamo mai fermati perché abbiamo fatto una programmazione di pillole in streaming da Goldoni alla canzone pop, alla canzone lirica, alla musica classica, insomma non ci siamo mai fermati e abbiamo guardato sempre avanti così come già stiamo facendo per la stagione 2022-2023 ma della quale vi accenerò brevemente successivamente. Insomma in questa stagione non abbiamo voluto farci mancare niente il tema sarà uno come tutti gli anni come il primo anno fu il teatro musicale l'anno passato doveva essere la commedia e quindi la riproponiamo quest'anno avremo quindi come tema pregnante la commedia, avremo Shakespeare con il sogno di una notte di mezz'estate avremo la locandiera di Goldoni, avremo Sarcinelli e Marzocca che porteranno dai loro successi televisivi una loro pièce qui fortemente voluta al teatro Persio Flacco di Volterra poi avremo delle puntate nella lirica che non può mai mancare di tradizione al teatro Persio Flacco avremo uno dei baritoni più famosi al mondo, David Cecconi il ritorno alla regia con un'opera meravigliosa, Pagliacci di Nicoletta Perondi e poi avremo una prima parte di stagione dedicata prevalentemente alla danza e alla musica un autunno direi diciamo denso di musica e di musicalità dai concerti di Tiziano Barbafiera, Ribechini anche dalla ricorrenza di Chi ha Piume Volerà per i 25 anni della loro formazione insomma sfoglio qui, ci sono 28 eventi, sono tantissimi il solito concerto di Capodanno avremo anche il teatro di inclusione con la compagnia Meyer von Frinzius che insomma tutti gli anni noi ci dedichiamo proprio con dovizia a questo tipo di iniziativa poi avremo anche una puntata però nel teatro diciamo classico non di commedia e avremo Valentina Banci un'attrice straordinaria pluripiemeata che ci porterà un adattamento da pirandello dei Giganti della Montagna saremo anche con il teatro musicale non ci atterremo solo alla commedia di prosa e quindi con il teatro musicale avremo La Bella e la Bestia avremo delle puntate come ho detto e voglio ripetere nelle mie mani che è una produzione del teatro Persio Flacco un musical ispirato a Edward Mani di forbice noi ne faremo uno showcase cioè vale a dire un'anteprima un'anteprima con i migliori performer di livello nazionale e internazionale comunque come ha detto il presidente Davide Arceri apriremo questa stagione domenica 24 alle 17 con un concerto da Oscar sì perché di tale si tratta la grande musica per il cinema con l'ensemble Bacchelli la cui direzione artistica e direzione d'orchestra della maestro Rita Bacchelli in cui ci saranno musiche di Morricone, Shostakovich ma sarà un tributo a Rizzortolani che è stato il primo candidato all'Oscar della musica italiana nel mondo e il primo Golden Globe e con la canzone More cantata dalla famosissima Catina Ranieri che ancora oggi detiene il primato come unico e primo interprete italiano ad aver cantato alla notte degli Oscar quindi insomma il 24 partiamo proprio come si suol dire col botto poi abbiamo la prima produzione musicale io ho parlato della prima produzione di teatro musical che è Le mie mani ma abbiamo la prima produzione musicale che è il soundtrack del teatro Persio Flacco dove appunto si suonano le colonne sonore del grande cinema ma non solo abbiamo anche dei contributi in proiezione dei film in questione insomma abbiamo tanto abbiamo nomi da Alessandro Calonaci dalla già citata Valentina Banci Sarcinelli, Marzocca abbiamo Silvia Guerci abbiamo Piero Di Blasio che porterà una commedia Anna e Marco come sposarsi senza rovinarsi pluripremiato in tutta Italia insomma non mancherà niente finiremo con una cosa che dici la posso annunciare? certo l'annunciamo? diamo un'anteprima per la prima volta qui al teatro Persio Flacco avremo uno stage o stage che dir si voglia di due giorni uno stage di musical con tre performer di livello mondiale che appunto si metteranno a disposizione in collaborazione col SIAF SIAF che è la scuola internazionale appunto e quindi avremo la possibilità di lavorare nelle strutture del SIAF e nelle strutture del teatro Persio Flacco per impartire a questi giovani promettenti performer il canto, la recitazione e la danza e stiamo comunque poi già lavorando alla stagione 2022-2023 che posso preannunciare avrà come, diciamo, come tema se quest'anno era la commedia appuntamento con la storia e percorreremo la storia attraverso i secoli da Dante al Novecento attraverso la nostra programmazione spero di non essermi dimenticato niente Davide dimmi, aiutami qua, adiuvami diciamo che l'estate continueremo con il supporto che abbiamo dato e che vogliamo dare al Festival Internazionale del Teatro Romano il cui fondatore è il nostro accademico Simone Migliorini applicheremo una politica dei prezzi che possa significare la possibilità di ritornare a teatro tutte le volte che si vuole quindi troveremo anche degli spettacoli di livello dove cercheremo di contenere il prezzo del biglietto anche quest'anno proseguiremo con un tipo di abbonamento particolare che è l'Amico Sostenitore dove acquistando una tessera e potrebbe essere anche un'idea regalo perché per i ragazzi sarà a 50 euro anziché a 100 per un regalo per Natale e con questa tessera si potrà entrare a teatro a qualsiasi evento per qualsiasi spettacolo con solo 3 euro di biglietto questo è un modo per sostenere il teatro e renderlo realmente vivibile ci siamo prefissi di affrontare il mondo della cultura con un autunno letterario dedicato alla presentazione dei libri che continuerà fino a dicembre dove Sandro poi presenterà il suo ultimo libro ma la vera intenzione è quella di portare la gente a teatro dove anche per un'occasione culturale ci sarà un intervento di musica come è già avvenuto proprio in questi giorni grazie alla collaborazione con l'Accademia della Musica Città di Volterra e il CEPEM di Volterra Jazz questa proiezione che noi abbiamo verso i comuni della Val di Cecina in questo caso il comune di Cecina ha offerto il contributo e quindi di poter cifreggiare di questa collaborazione e presenteremo dei libri così con la scusa di visitare il teatro anche culturalmente cominciamo a riportare la gente a teatro questo è il teatro della Val di Cecina è un teatro all'italiana tra i più antichi d'Italia ed è a disposizione di tutto il territorio hai parlato e abbiamo già detto tutto però parlando del territorio vorrei citare e non l'avevo fatto prima per esempio le sorelle Cigna che saranno qua con Boccoli e Cuori in Contesa quindi abbiamo un tassello in più nella lirica con due personaggi autorevoli del territorio con il maestro Gablieri che ha fatto un grandissimo lavoro su Zannetti che è considerato il Mozart volterrano ma ha curato per la voce nel dizionario e quindi questa volterranità che deve saltare fuori per i grandi personaggi che comunque sono la storia di questa città un posto che è come il teatro che una cattedrale celebra un po' la dedica di quando poche persone hanno pensato ai molti e nel tempo quindi il teatro è veramente a disposizione di tutti infatti a proposito di questo non vogliamo dimenticarci che siamo insomma sempre in sinergia con le scuole e a maggio avremo appunto uno spettacolo che già è un'anteprima di ottobre 80 nostalgia con il liceo Carducci dove interverranno in scena più di 60 allievi tra ballerini, attori, cantanti e anche 6 professori insomma non mancherà niente in questa stagione avremo la danza con canestro insomma ritratti di donna che finalmente dopo tre anni ce la facciamo a portare dopo che abbiamo dovuto annullare insomma non manca niente con la scuola di danza di Volterra Danza io in quanto direttore artistico vi porgo i miei saluti e i miei ringraziamenti e lascio la parola a Davide per il congedo finale io non posso fare altro che rinnovare il mio invito ringraziare Toscana Live che ci aiuta nella divulgazione del teatro deve esportare i suoi contenuti e a presto rivedervi tutti a teatro grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti